Per tutti, la vicenda del Circolo Cannottieri è tornata alla luce di recente dopo l'annuncio della riqualificazione da parte dell'amministrazione comunale, ma fu nel 2015 sotto il governo di centro-sinistra che si iniziò a parlare di riqualificazione del Circolo Cannottieri? Sì, perché il Comune volle subentrare la provincia nella concessione di quel bene demaniale e a fronte, da un lato, dell'importanza del Circolo Cannottieri nella nostra città, tenendo presente che esiste il Circolo Cannottieri come immobile, il Circolo Cannottieri come realtà sportiva, sono due elementi di grande valore che coincidono in un luogo e quindi l'obiettivo dell'amministrazione era fare in modo che tutto questo potesse essere reso migliore, avere uno spazio più congruo e riqualificato. Qual è il problema? Il problema è uno solo, qual è il ruolo che deve avere il Comune? Il Comune non ha solo le competenze proprie, il Comune deve comporre tutte le esigenze che accadono nella città di Pescara. Qui è accaduto semplicemente che la nuova amministrazione, come spesso accade che faccia, ha lasciato la sovrintendenza fare il suo lavoro disinteressandosi completamente del tema e la sovrintendenza ha elaborato un progetto molto probabilmente interessante dal punto di vista del recupero storico-artistico del bene architettonico ma che non si confà con le esigenze o non si confà completamente con le esigenze del Circolo Sportivo e questa invece è una struttura che deve servire per quel motivo. Io ho anche interessato, Luciano D'Alfonso, il Presidente della Commissione Finanze, perché a lui compete in effetti anche il demanio per cercare di mettere attorno al tavolo il Circolo, la sovrintendenza, il demanio e individuare una soluzione perché non è possibile che la sovrintendenza, che in tutte quante le carte, quindi in tutti quanti i passaggi fatti riconosca il valore di questa struttura, una struttura per cui la delibera Cipe del 2017 prevedeva 1.800.000 euro che poi sono diventati 2.200.000 euro, quindi un finanziamento consistente e considerevole che veramente poteva rendere quella struttura fruibile, attrattiva, da ogni punto di vista adesso di fatto è un bel problema per la nostra città. Non solo, la perdita della concessione da parte del Comune di quel bene va, a mio parere, a determinare la chiusura del Circolo, la probabile chiusura del Circolo che adesso dovrebbe addirittura pagare per l'utilizzo della struttura 22.000 euro l'anno ed è una cifra che un'associazione sportiva come il Circolo Canottieri non può assolutamente assumersi. Grazie.